Case IH è conosciuta in tutto il mondo per la qualità e le prestazioni delle sue macchine ma il suo successo dipende anche dalla forza della rete dei concessionari una rete che ha permesso a Case IH di espandere la propria presenza anche in zone dove era praticamente sconosciuta come la provincia di Salerno per esempio. Vediamo la success story dell'azienda Cesaro Macchine Agricole di Eboli narrata dalla viva voce dei protagonisti. Marco Cesaro uno dei soci della Cesaro Macchine Agricole SRL che l'ha fondata nostro padre negli anni 90. Sono Vito dell'azienda agricola La Brocca. Mi chiamo Luciano Carrozza. Mi chiamo Pasquale Mauro. Mi chiamo Carlo Donofrio. Mi chiamo Paolo Delgrosso. Mi chiamo Antonio Di Piasi. Tampasco Cosimo. Sono Antonio Terrelaur. Stiamo diciamo dimostrando che la passione, l'impegno, la buona volontà, soprattutto la serietà e il rispetto per i clienti paga. Questo è stato uno dei fattori vincenti che ci ha portato finora a dei risultati più che soddisfacenti. Il progetto di comprare Case è partito nel 2013 quando mio nonno, Vito La Brocca, scelte di provare Case con il nostro concessionario di fiducia Cesaro. Ho scelto Case perché ritengo che è una delle macchine migliori che ci sia in commercio. Poi abbiamo un fantastico concessionario qua nel Salernitano. Abbiamo deciso di scelto questo marchio a parte la loro stile molto accattivante per la loro affidabilità e sono molto elastiche, molto imponente come potenza. Cesaro perché quando ho maturato l'idea di acquistare un trattore mi siedo una sola volta. Abbiamo scelto questi due case perché abbiamo visto che erano delle macchine che potevano dare delle risposte alle nostre esigenze. Ho acquistato un Luxum 120 che utilizzo molto con il caricatore frontale e poi abbiamo acquistato un Puma 240 dove facciamo trasporti con rimorchio, carrabotte, preparazione dei terreni. Cesaro perché l'abbiamo conosciuto da poco, a novembre, e dal primo giorno che l'abbiamo conosciuto è sembrato un ragazzo molto per la mano e ci è venuto molto incontro. La scelta case mi sembrava, già che sono fatti in Austria, questo che sto guidando adesso, mi sembra una macchina molto affidabile. Poi avendo un grande concessionario come il signor Cesaro, automaticamente perdo fuori il fatto che i case sono entrati in azienda. Ho scelto case per la disponibilità del concessionario, anche perché mi sembra una bella macchina, il concessionario è molto disponibile. Abbiamo comprato questo trattore case perché aveva bisogno un altro trattore, l'abbiamo visto, l'abbiamo comprato e ci troviamo molto bene. Abbiamo comprato questo trattore da Marco perché siamo amici da tanti anni e non solo questo, ma abbiamo più di uno, non solo questo qua. Ci hanno consigliato di provare questo trattore e la verità è andata bene, ci siamo trovati molto bene, soprattutto io che lo guido, contentissimo, sconfortevole, sicurezza, stabilità, forza, è un grande trattore. Accesare da persone brave e soprattutto pronte quando ce n'è bisogno. La prima cosa, siamo vicino al cliente, siamo pronti con l'assistenza sia di sabato pomeriggio, di domenica, proprio per star vicino al cliente in modo tale da non perdere giorni, non perdere il raccolto che loro preparano facendo dei sacrifici. E ora ci prendiamo una pausa, continueremo a narrare le storie di successo di Case IH, di Cesaro e di tutti i nostri clienti in un prossimo video. Grazie a tutti i nostri clienti.